Sì, vogliamo sapere qual è un po' il senso e lo scopo della festa di primavera della Banca Lecce? Dunque, la festa di primavera è dedicata ai lupiti e le cucinelle della zona di Piacenza e noi abbiamo pensato come obiettivo quello di farli giocare insieme per farli conoscere tra di loro e conoscere anche gli altri gruppi perché non siamo solamente una piccola famiglia all'interno del nostro gruppo ma ci sono anche tutti gli altri fratellini e le altre sorelline Vabbè, ho già detto tutto Sara, l'obiettivo è proprio l'incontro, l'aprire gli orizzonti quindi conoscere fratellini e sorelline che sono di altri branchi, di altri cerchi e incontrarsi e conoscere noi fratellini e sollevamo Quanti ragazzi ci sono oggi? Quali sono le attività che avete fatto? Oggi ci sono quasi 300, ci sono quasi 300 fra bambini e bambine tra i 9 e i 12 anni Abbiamo fatto le attività all'inizio di conoscenza dell'Italia e dei vari posti dell'Italia Hanno riscoperto durante la giornata al nord, il centro, sud e le isole scoprendo, facendo attività che portavano a scoprire appunto il territorio e i parchi naturali caratteristici